Si è conclusa venerdì l'esercitazione Extreme Patrol, che per tre giorni e tre notti ha visto scendere in campo nel comprensorio di Corvara in Badia 12 pattuglie dei reggimenti delle truppe alpine dell'esercito italiano, tra cui il reggimento Nizza Cavalleria, primo della brigata alpina taurinense, distanza a Bellinzago Novarese, il cui personale si addestra regolarmente al combattimento in montagna. Le pattuglie Nuova Vitara Hybrid, è qui. Suzuki e tecnologia da incentivi, fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki